La felicità di chi si abbandona in Dio Su via, segui il crisostomo, datemi un uomo che non abbia in sé niente che lo condanni, ma assicurato dalla buona coscienza, aspiri ferventemente alle cose future, in aspettazione di quella beata speranza. Qualcosa mai sarà, io domando, che valga a contristarlo? Non par forse che la morte sia la più intollerabile cosa del mondo, ma l'aspettazione della morte non solo non lo contrista, piuttosto anzi lo consola, poiché sa che la morte è la liberazione dalle presenti fatiche, il corso per giungere alle corone ed ai premi riposti a chi combatte per la virtù. Forse l'immatura morte dei figli lo rattristerà? Egli porterà animosamente anche questa e dirà con Giobbe, il Signore mi ha dato, il Signore mi ha tolto, secondo a lui piacque e così fatto sia benedetto il nome del Signore. Che se nella morte, nella perdita dei figlioli, lo possono contristare, molto meno la perdita delle ricchezze potrà far colpo su quest'anima generosa. Ma cade infermo? Ebbene, ode ancora il savio che l'ammonisce dicendo, nella malattia e nella povertà confide in Dio, perché siccome l'oro si prova nel fuoco, così gli uomini accettevoli a Dio nella fornace dell'umiliazione.